Da 60 a 100 euro all'ora. È questo il provvedimento voluto dalla Regione Piemonte per riconoscere ai medici che lavorano in pronto soccorso un aumento economico sulle prestazioni aggiuntive e da domani questa scelta sarà legge. Ad annunciare la Regione che spiega che la Giunta ha deciso di predisporre un disegno di legge urgente che sarà approvato proprio domani durante la seduta dei lavori regionali. Già in giornata intanto il decreto sarà esposto dal Presidente della Regione Cirio, dall'Assessore Riccardi alla Commissione Sanità con un passaggio anche in Commissione Bilancio. Domani sarà votato dall'Aula Consigliare. L'Assessore alla Sanità sta avviando parallelamente anche il confronto con le organizzazioni sindacali del comparto per adeguare il valore economico delle prestazioni aggiuntive anche per gli infermieri e per gli altri operatori delle professioni sanitarie. Ci eravamo impegnati a rendere il provvedimento legge entro gennaio. Ringraziamo il Consiglio regionale per aver accelerato tutte le procedure rendendo questo possibile e quanto sottolineo Cirio e Icardi. Un atto che sentiamo un dovere verso chi ogni giorno lavora nella complessità di un pronto soccorso. Questa misura rappresenta anche un incentivo per ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni ed è uno dei punti del piano straordinario che abbiamo avviato per fronteggiare una situazione critica da oltre 15 anni e troppo tempo rimandata. Ora lavoriamo, aggiungono, per fare altrettanto con infermieri e gli operatori delle professioni sanitarie che rappresentano con i medici la spina dorsale determinante dei nostri DEA.